Un meccanismo perfetto di ironia intelligente e brillante contro il rigido conformismo della società vittoriana, un classico di Oscar Wilde, qui riadattato all'importanza di essere Ernest. Traduzione e adattamento di Federico Bellini per la regia di Antonio Latella e l'incontro con Latella si fa davvero interessante al Teatro Cucinelli di Solomeo in Umbria. L'importanza di chiamarsi Ernesto è sicuramente una delle commedie più conosciute di Oscar Wilde, un caposaldo della letteratura inglese che affrontato però da Antonio Latella, regista tra i più iconoclasti della scena italiana, diventa l'importanza di essere Ernest, non di ma da Oscar Wilde, nell'adattamento traduzione di Federico Bellini. E così la commedia degli equivoci, dei doppi sensi, doppi personaggi e doppi vari, diventa una ricognizione all'interno della società vittoriana, fra testo e biografia del poeta drammaturgo, ferocemente perseguitato dalle autorità del suo tempo per la sua omosessualità e per il suo anticonformismo. E' una mappatura, nel senso che è una commedia che all'interno ha delle piccole stazioni, delle piccole parole intraducibili in italiano che danno una chiave di lettura, che ti danno la possibilità di vedere oltre la commedia, quindi di vedere anche una sorta di autobiografia dell'autore. E questo è stato il gioco sottile che ha fatto poi il drammaturgo Federico Bellini. Quindi leggere questo testo di Wilde è come un testo cifrato quasi, no? Di una biografia, di un'autobiografia dell'autore. Lui ti dà degli appuntamenti, poi sta a te capire se vuoi usarli o no. Ovviamente mi sono divertito ad usarli, non potevo che far così. Ho notato spesso che nelle case degli sposati lo champagne, raramente di prima classe. Una messa in scena dove si spiano le vicende da una lunga vetrata, uno spettacolo fresco e intelligente interpretato da una nuova compagnia di giovani voluta dal Teatro Stabile dell'Umbria. Una ventina di attrici e attori sotto i 35 anni, nati o residenti in Umbria, selezionati con un mando al quale hanno risposto 80 candidati. A fare da punto di riferimento ai giovani un affermato Francesco Bolo Rossini. È una compagnia stabile che prevede per ora una trienalizzazione, un progetto per tre anni con questi elementi che ruoteranno intorno a diversi progetti. Incontreremo nuovi registi e la cosa bella è che è cominciato questo cammino insieme e si vedono già i frutti. Nonostante non siamo sempre gli stessi, però essendo un po' cresciuti insieme, condividendo le radici fondamentalmente, nonostante anche un po' la sana follia con le personalità forti, si crea un ambiente di lavoro molto piacevole che è difficile trovare in una situazione un po' più di teatro stabile, un palco importante e con un regista importante. Il lavoro con Antonio è stato molto intenso e ci è stato molto ascolto. Si è affidato molto a noi pur non conoscendoci e pur essendo anche abbastanza giovani. Io sono uno dei più giovani qua dentro, quindi poteva benissimo imporsi, invece ci è stato molto ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.